Con l'accusa di maltrattamenti, aggressioni e minacce da anni nei confronti della moglie e della figlia quarantenne, è stato arrestato un uomo 66enne di San Giovanni a Piro. A svolgere l'operazione di rito e bloccare i 66enne, sono stati i carabinieri della locale stazione intervenuti a seguito dell'ennesima lite per futili motivi. È stata la figlia quarantenne a chiamare i militari della stazione di San Giovanni a Piro. Madre e figlia, fuggite da casa scalze e terrorizzate, avevano trovato rifugio in un'abitazione vicina, mentre l'uomo era ancora in casa, dove stava cercando di cancellare le tracce dell'aggressione. I carabinieri hanno bloccato il 66enne e ricostruito anni di violenza e minacce grazie alle dichiarazioni delle due donne. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, continuati e lesioni personali. Ha passato la notte nella camera di sicurezza della compagnia carabinieri di Sapri, in attesa del processo, corrito direttissimo. A Debole, invece, si sono registrati due litigi nella mattinata di ieri che hanno richiamato l'attenzione di residenti e passanti. La prima è venuta nelle abitazioni Iacipine, presso il viale Amendola. Pare che per motivi inerenti lo spaccio siano volati dei tavolini. La zona con le urle si sono sentite in madonna del soccorso. I litiganti si sarebbero azzuffati nel cortile, a pochi metri dalla chiesa di San Bartolomeo. A farne le spese è stato il portone delle palazzine Iacipi, di cui è rimasto in piedi solo lo scheletro. La seconda in periferia a Santa Cecilia, probabilmente, per il mancato utilizzo delle mascherine come protezione dal Covid-19. Pare che l'arterco sia stato tra due commercianti della Piana del Sele e Bolitana.